Ciao amici e bentrovati! Volevo fare un video veloce perché volevo dire alcune cose e già qui ci sono i bobbers che si stanno preoccupando allora ragazzi innanzitutto volevo ringraziare smartylife.net perché come sapete questa settimana sto provando Mi Mix 2 la recensione arriverà a breve poi mi ha inviato Mi Note 3 che è ancora impacchettato perché non ho avuto minimamente il tempo di provarlo anche perché come sapete dove l'ho messo è qua sto provando il Samsung Galaxy Note 8 volevo ringraziare smartylife perché praticamente mi ha fatto avere i device prima di tutti gli altri io vi dico di rimanere sintonizzati perché ho finalmente e come sapete non ho più la fretta di dover recensire i device quindi me li provo con molta calma in settimana ho messo le foto dell'unboxing del Mi Mix 2 sia su Facebook sia su Telegram quindi seguitemi mi raccomando anche su Telegram vi ricordo promozio, chiocciola promozio, il nuovo canale delle offerte e quindi nei prossimi giorni seguitemi e usciranno la prossima settimana tutte queste belle recensioni volevo dirvi un'altra cosa rimanete sintonizzati perché nei prossimi giorni scopriremo il Bobaxing rimanete sintonizzati ciao 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 Grazie.